Salve a tutti ragazzi e benvenuti nella nuova puntata di Minecraft Sto giocando offline perchè non mi va internet E va bene allora abbiamo appena fatto lo screenshot Siamo a 3 qui la roba cresce Sì ma che cazzo Non escono mai i semi Sbagliato Cesto Vediamo un po' Dormiamo va Forza E tu open your inventory Ok allora forza forza e forza Diamoci da fare Che si fa oggi Dunque Basta Cerchiamo di fare Non ho una pala Oh sento uno zombo Che si sta bruscolendo Eccolo chi l'ho visto Eccolo 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 No 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 Ce l'ho dietro Non ce la farà raggiungermi Sto evadendo Sto evadendo Sono evasso Allora queste non fanno parte dell'albero questo Quindi togliamole Eh sì ora come ci arrivo a casa mia Non mi mannaggia a me Se vaffan Chiul guardate che Cazzo Di Oh Oh lagga poco Bello Che cazzo Che distanza ce l'ho Ok Una zucca Una zucca Ragazzi le zucche si tagliano Si tagliano con la Mi piace Si tagliano con la Con la Ce la posso fare Non ce la farò mai Si tagliano con la Ascia Con l'ascia Non riuscivo a dirlo Ok Qua abbiamo delle Queste non ci permettono di chiudere la porta Quindi Opla Si escono perfetto E allora le mettiamo Tipo qua Così rivestiamo tutto Cosa Di liane Che cazzo La sto rivestendo a caldo Ma Giulio Sto facendo una gran minchiata Perché tanto Vaffanculo Il culo Che cazzo sto cercando No seriamente Cosa facciamo Allora Che cazzo Facciamo Che si fa In minecraft Vanille Oddio mi sento Stupido Allora Abbiamo un'armatura Ecco per esempio Potremmo fare questo Perfetto Ci sono No facciamo una cosa Via tutto Facciamo in questo modo Abbiamo 6 fans Che non ci basteranno mai Quindi ne facciamo un po' di più In questo modo Li separiamo tutti Correttamente Voilà Ora dovrebbero bastarci E cosa andiamo Se non esce Quanto vestiglio Si sono usciti i semi Perfetto Anche 3 Ok 1 2 3 Perfetto Ci metteremo i secoli A fare una coltivazione Di grano recente Perché non cresce Quel cazzo di semi Ma va bene Sono problemi Che non ci riguardano Al momento Non ci basteranno mai Le fans che ho fatto Dovrei calcolare meglio Le cose 1 2 3 4 Forza Forza Agire Si un'altra zucca No è quella Quella che ho piantato qua Oh 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 Opla Opla Iniziamo a fare i biscotti Per gli iscritti Quanti c'è No per adesso 28 Quindi 8 Ne mancano Solo 20 Allora facciamo Una cesta Una cesta La portiamo Di sotto Tra un po' Dovremmo fare un passaggio Qualcosa per andare giù Perché Si sta Oh Ahia Ah Uh Quello cos'è Dell'erba Tagliata Interessante Del grass Ok Allora Abbiamo la cesta Dove la mettiamo Qui 8 Bisogna averne 28 Mancano 8 16 24 Altri 3 Quindi 6 6 di grano E altri 3 Di Quell'altra roba Altri E Vado a ucciderlo Vado a ucciderlo Perché mi servono Le sue ossa Altri 3 Stavo dicendo Di Cacao Oggi Non mi vengono in mente Le parole Porca miseria Dai Allora 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 Ancora non sono in grado di pensare Mentre gioco a minecraft Questo è un grave Misfatto Non posso farci Niente Ok Fatto Vediamo Un osso Abbiamo 3 Cosini Per accrescere Qualcosa E accresceremo Il grano Ci serve Prima Oh Mettiamo a posto La roba dell'agricoltura Ok Le frecce Dunque I minerali vanno di qua Invece Io direi che forse Sarebbe il caso Di tornare nel Don Dungeon Dan Dan Dungeon E cercare Del diamante Così che andiamo All'inferno A cercare qualcosa Si potrebbe essere Un'idea Va bene Andiamo giù Nell'inferno Si mi porto Dell'acqua Così se trovo Della lava Dopo aver trovato Il piccone E dopo aver Non avrei una Workbench Ma ho del legno Quindi si può fare Allora Prendo dell'acqua La metto nell'inventario E scendiamo Con un po' più delicatezza Con un po' più delicatezza Sarebbe stato meglio Ma Porca miseria Un creeper Non so E vabbè ma Si Esplodere Wopla Eccolo qui Il nostro Bellissimo Buco Fantastico Non lo ritroveremo Mai Quindi Perderò in un Doncione Morirò qui Probabilmente Però Fantastico Abbiamo un problema Non ho portato Le torce Ma Penso che Trovando del carbone Potremmo risolvere Quindi Non vedo un cazzo Manco io Non vi preoccupate Siamo in due Voi Sì La lava Per fare lo Sidiana Sento uno zombie E non è una mia impressione Basta che non viene a rompere le palle Anche perché io non vedo Se arriva Non mi piace Non mi piace questo posto Dai che adesso si rifa luce Grazie all'ossidiana Lo so che sto scavando Larghissimo Per fare questo buco Ragazzi ma Perché Prendo anche del petrisco Nel frattempo Anche se la metà Sta cadendo Nella lava Cioè se c'è solo Sto buchetto di lava Questa la definirò La cosa più Sfigata Di questo mondo Porca miseria Wow Della redstone Oh Cazzo Va bene Raccogliamo la redstone A che profondità siamo Invere un cazzo Undici Questa è una buonissima Profondità Io dicessi Di scavare qui Et voilà Fantastico Non è vero Un po' Minchia Quanta lava Qui c'è solo un buzzino Così e lì E quella che scende Continuiamo Troverò qualcosa Di interessante Prima o poi Oh Guardate Sei Come previsto No Tu no Fantastico Fico posto Mi piace Raccogliamo Se viene qualcuno A buttarmi giù Quante ne dico Raccogliamo Della redstone Andiamo Oddio 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 C'era della lava Madonna Verso 20 anni di vita Ragazzi L'avete visto Tutti Abbiamo Del diamante Stinson Abbiamo Del diamante Cazzo Ed eccolo Lì Spero che Non sia Uno solo Evitiamo Di farlo Cadere Nella lava Ni mortacci No ma Forse Scavando Qui vicino Troveremo Il resto O forse No Mi sa Che Non c'è Un cazzo Uno solo Non ci faccio Una sega Continuiamo Il nostro Percorso In miniera Ci farei Una pala In realtà No lo so Che non è interessante Non ci si fa niente Con una pala Di diamante Cioè oddio Non sarebbe Buona Che Vede No sto Scherzando Si fa Piccone E poi Le armature E poi Nel caso Gli altri Argeggi Sento Un ragno Che si sta Facendo male Dai No Se mi si rompa In quest'altro Perché ne devo Portare sempre Solo uno Torniamo Indietro Va Evitiamo Di scavare Troppo Qui abbiamo Del ferro Vaffanculo Scaviamo Questo ferro Oh Della sidiana Issa Issa Non c'è un cazzo Oh Del carbone Così possiamo fare Le torce Vaffanculo Vabbè Ci basterà Quattro Perfetto Via dalle palle Che se qua Ci buttano giù Ok Qui c'è Dell'altra lava E andiamo Le torce Oh Vabbè Andiamo a vedere Che c'è di là Io ragazzi Spero C'è il sicuro Redstone Molto bene Un bel po' Di redstone Vieni Dopo Pino Brava Si va Si va Di là C'è dell'altro sidiano Quindi Smuoviamoci Ho anche Squacciato Di nuovo Il piccone Pazzo Che Kaiser Potrei fare Un accampamento Qui sotto Cazzo Non ho il carbone Ma Dai Perché c'è Tutta questa acqua È Un'altra È stata una mia Impressione No, era l'impossione Ho del coal Come cazzo l'acchiappo Così Minchia potenza No, 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 no Dobbiamo essere molto a corto Molto a corti Non vorrei finire Della loba Questo già è ferro Giustamente è più lento nello scavarsi Qui abbiamo Ci siamo persi senza ombra di rubbio Mi ero scordato che bisognava tornare anche a casa Prima o poi Va bene, ritroveremo una strada Io non credo proprio Ma evidentemente troveremo un modo per tornarci Forse facendo un buco dritto per dritto Potrebbe essere una buona idea Oh, 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 oh Un redstone Si, ci vado Si è rotta E noi facciamo un accampamento Cazzo Un consiglio è non mettere le workbench sulla lava Perché potrebbero prendere i remedi a fuoco Mentre una furnace non è fatta proprio Per One, two Perfetto Cuocemo un po' De ferruzza Così da farci un bel picconuzzo Allora, facciamo una cosa Facciamo uno e uno Ale 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 Oh Cerchiamo Horo Horo Go Go E tu che cazzo ci fai qui? Perché c'è una mia torcia qui e dell'oro che non ho preso? Forse camminando così non l'ho visto O forse non avevo un adeguato picco Né per prenderlo Che mi sembra forse una cosa un po' che incredibile Va bene Prendiamo One, two, three One, two Porca miseria Torniamoci all'indietro Ricordiamoci che l'accampamento è qui, cazzo Recuperiamo questo ferro Poi recuperiamo quest'oro Due Ci accontentiamo Wow, wow Cazzone Porca che buca Dove cazzo è arrivato quel gay? Vaffanculo Non dobbiamo perderci Ah eccoci, ok No, 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 no No, no, no Buttiamo giù qui Così almeno scendiamo Oltre che prendere il ferro Ottimizzare le cose, cazzo Sprecare il meno piccoli possibile, cazzo Di qui C'è qualcosa? Assolutamente niente Di qua Sì ma non credo che ci andremo Non mi sembra interessante la cosa Ritiro quello che ho detto Perché c'è nel lapiscazzolo E guarda quanto Perfetto, cazzo E giù? E giù ci ho messo una torcia e non ho visto il ferro Ma io sono pirla Ma sono veramente pirla Ok Opla Opla, 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 opla Molto interessante Ehi, ci sono delle torce Quindi ci sono già stati Torniamo indietro Non vorrei mai perdermi Minchia Non vedo un cazzo Non vedo un cazzo Allarme, allarme Ok, però forse potrebbe essere passato il tempo Che dovevo giocare Ragazzi Cioè non che dovevo giocare Ma il tempo, insomma Siamo capiti Dovrebbe essere passato il tempo Dei 15 minuti Quindi Se uno zombie non mi fa fuori prima Io vi saluto Ciao a tutti ragazzi Ci vediamo No Dobbiamo ancora fare lo screenshot Lo faremo qui Al nostro accampamento Quindi facciamo lo screenshot Cazzo Ecco qua Perfetto Salve a tutti Cazzo 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 Cazzo